Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Si sono verificate due incredibili trombe d'aria, una nella giornata di oggi e una ieri pomeriggio. Quella di ieri, come vedete in questo video, si è formata sul mare di Vesima, poco distante dal litorale. La spiaggia, nonostante l'allerta meteo gialla diramata per tutta la giornata di ieri, era piuttosto affollata e in molti hanno assistito al vento che ha fatto increspare il mare fino a formare il tipico mulinello. Nel video, che sta diventando virale sui social, si vedono chiaramente i lettini e gli ombrelloni spazzati via e il timore dei presenti, e di chi si è trovato a girare fortuitamente il video. In pochi minuti la situazione è tornata alla normalità. La seconda tromba d'aria, verificatasi oggi, ha colpito il Salento. Sul litorale delle Marini di Melendugno, tra Roca, Torre Sant'Andrea, Torre dell'Orso e San Foca. Molti i turisti fuggiti dalle spiagge. Il vento ha sradicato alcuni alberi, ha divelto la segnaletica stradale. Danneggiato i deor di alcuni locali e i pali della luce, uno dei quali è caduto su un'auto. La tromba d'aria ha provocato il crollo di una parte del muro perimetrale del faro di Sant'Andrea e di parte della staccionata che circonda l'antica torre di Torre dell'Orso. Al momento non risultano esserci feriti. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.